Altro momento topico di questo 2015, dopo mesi e anni di produzione salta fuori finalmente il teaser trailer o il trailer dei Fantastici Quattro, film discutissimo di Josh Trank che fa discutere un sacco di problemi, gente che non è convinta, vabbè poco importa, adesso ce lo guardiamo e poi vediamo un po', io sono particolarmente gasato insomma, sono gasato dai! Oh no, ma perché non fate gli universi, mischiate tutto santo Dio! Come siamo arrivati fin qui? Musica classica? L'essere umano... Ah! Io non ho finito! Grim! C'era Grim nella casa! Bella easter eggs! Campo di grano, musica triste, sabione... Originalissimo! Di costruire... Ma hai visto recentemente del co... Guarda lo spazio di virtude... Lo studio che era... Ma che si ritrega dallo studio? Il regista! Il futuro dipende dalla nostra capacità di portare avanti queste idee... Sì... Frasi a caso sempre di futuro di... Facciamo tutti... Responsabilità! Responsabilità! Sì! Caricadrà sulle spalle! Vai! Wargames! Oh! Bill Elliot che gioca a baseball! Tagliene con quella morta! No! No! La torcia umana deve essere bionda! Americana! Bianca! E deve essere... Devi fare il fenomeno! Devi tirarsela! Sento Dio! Con tutto il rispetto! Ma non deve essere nera! Sento Dio! Rambo ed elenate! No! Nick Fury nero! No! Certo Dio! Questo pathos! Questo... Uuuh! L'uomo sabbione! L'uomo ghiaia! Uuuh! C'era una mua e si è acceso! Questo pathos! Questa... Questa roba che ti... Questo spazio! Oh! Il titolo! Ah! Ha cambiato nome! Funt Quattro Sticks! Si chiama! Suono benissimo! Funt Quattro Sticks! Preparati per quello che arriverà! Cosa arriverà? Le risposte! Sì! È Meteome Gonagrix! Meteome Gonagrix! Interstellar 2! Interstellar 2! Interstellar 2! Interstellar 2? Perché ho... Come Interstellar 2? Ma sento Dio! Come Interstellar 2! Ma sento Dio! Perché l'ho detto Interstellar 2? Ma sento Dio! Ma sento Dio! Ma sento Dio!